Allora è finita poco fa la conferenza stamba fatta al no camp al tempio del Barcellona dell'ex capitano ormai a tutti gli effetti di Lionel Messi del Barcellona e questo fu un ambolo argentino di 33 anni che dopo 21 anni quindi veramente un lasso di tempo impressionante dopo 21 anni ha lasciato il Barcellona per dei problemi burocratici si dice perché nonostante si sia dimezzato lo stipendio col Barcellona poi con dei problemi anche con la porta e dei problemi quindi con tutta la società che non poteva pagarlo come lui voleva e quindi ha deciso dopo 21 anni quindi tantissimi anni ha deciso di lasciare il club Blaugrana la conferenza stampa è iniziata con un momento molto 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 possiamo definirlo sentimentale quindi un momento molto toccante dove il giocatore argentino si è inizialmente emozionato dinanzi le telecamere, i giornalisti e i suoi ormai vecchi compagni di viaggio del Barcellona sia quelli più vecchi quindi più datati che quelli molto molto più giovani che hanno assistito alla sua conferenza quindi questa conferenza è iniziata con questo momento molto toccante dove lui si è lasciato andare molto alle emozioni dove comunque ha parlato di tutto e un po' la sua carriera con tutti i trofei esposti di fianco a lui e niente poi da lì poi ovviamente si è iniziato a fare molte domande dove lui ecco ha praticamente ecco dopo l'iniziale emozione si è lasciato andare a tutte queste domande rispondendo ecco un po' del perché anche di questa sua così brusca separazione dal Barcellona dove ci sono stati problemi burocratici quindi ovviamente sempre di soldi nonostante si sia dimensato lo stipendio da due anni non riuscivano più a pagarlo come lui voleva e ha ceduto al Paris Saint Germain perché molto probabilmente la destinazione futura di Messi sarà il Paris Saint Germain che ha fatto un acquisto grandioso perché Messi nonostante abbia 33 anni e vada per i 34 anni è pur sempre un acquisto grandioso ha fatto un'annata incredibile che molto probabilmente lo porterà a un altro pallone d'oro e niente poi personalmente ecco un parere mio personale io stimo molto questo giocatore sono un grandissimo fan di questo giocatore ma questa scelta un pochettino non l'ho accettata e non l'ho capita perché lui a 34 anni sarebbe potuto rimanere altri 2-3 anni al Barcellona pur prendendo uno stipendio minimo io l'ho fatto anche gratis con una squadra che comunque ti ha fatto nascere cioè ti ha curato ti ha assistito ti ha dato soldi su soldi per curarti per diventare comunque anche quello che tu sei perché comunque ecco Messi ha dovuto fare delle cure ormonali a un prezzo esorbitante che il Barcellona ha pagato si è preso quindi tutti i meriti di queste spese per farlo maturare per farlo crescere altrimenti non avrebbero fatto mai giocare in una serie professionista niente questo è un po' trattamento così non l'ho capito ovviamente poi queste sono scelte personali ripeto ogni calciatore ogni giocatore può fare una scelta a sé quindi condizionato non lui ripeto queste lacrime e le ho viste lacrime sincere nonostante ecco torna a ripetere sarebbe potuto rimanere però quelle lacrime mi sono sembrate lacrime vere cioè lacrime di un giocatore che ovviamente non può cancellare 21 anni cioè che sono tantissimi quindi da quando dalla sua quasi infanzia tra un po' fino ad arrivare ad oggi non può cancellare 21 anni così ed è normale che l'emozione poi subentri quindi quelle lacrime non le vedo come lacrime di coccodrillo io vedo più che altro il suo discorso un po' un discorso contorto quando magari parla di rinnovi di problemi burocratici lì avrebbe potuto anche giocare gli ultimi 2-3 anni per dire gratis anche perché i soldi a lui non mancano però in questa epoca dove il calcio parla tanto tanto di soldi dove ci sono mega mega contratti dove comunque non vi sono più quei tempi d'oro di che ne so di un Roberto Baggio, di un Del Piero, di un Zanetti stesso di un Zantro Mazzola per dirvi no enderista o di qualsiasi altro calciatore anche come un Bambas che comunque erano ecco erano tempi diversi, erano prezzi meno esorbitanti giocatori magari più attaccati alla maglia ovviamente ecco di questi capitani come Totti, Zanetti, lo stesso Del Piero possiamo mettere Maldini, Baresi cioè di questi giocatori non è che ne ha io credo che ormai con questi tempi dove vi è molta flessibilità calcistica questi tempi non torneranno più e quindi dovremo abituarci che anche di bandiere ne troveremo ben poche certo Messi dopo 21 anni sarebbe potuto rimanere al Barcellona e finire la carriera lì lui dice che non sarà una fine ma sarà un piccolo saluto per poi dare l'addio al calcio proprio lì al Barcellona quindi dice che vi sarà un ritorno ma io sono molto scettico su questo niente, io sono un grande fan suo per me rimane e rimarrà sempre il giocatore più forte degli ultimi 15 anni ma questa uscita per me lo poteva risparmiarsela ora ovviamente vedremo come entrava con il Paris Saint-Germain con questa squadra che già è fortissima di per sé adesso con Messi sarà una squadra ancora più forte io credo da battere vedremo come sarà lì auspico anche per il settimo pallone d'oro quest'anno per Messi purtroppo questa scelta non l'ho accettata e non l'ho capita voi nella vita ognuno è lì per fare ciò che vuole vi saluto, ciao a tutti